Ben ritrovati e ben ritrovati, se avete piacere iscrivetevi qua sul mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo video. Allora, oggi è una giornata interessante perché direttamente dall'urna di Nyon, appuntamento alle 12, sapremo chi sarà l'avversario della Juventus agli ottavi di Europa League dopo aver completato l'opera ieri a Nantes con il netto punteggio di 3-0, caratterizzato da una sontuosissima tripletta di Angel di magia. Ci arriviamo. Chi può pescare la Juventus? Una tra Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferenbaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilouac. Perché la Juventus può beccare solamente una tra queste? In quanto la Juve, essendo retrocessa dalla Champions e avendo disputato i play-off, disputerà gli ottavi non in qualità di testa di serie. Chi ha vinto il proprio girone invece è testa di serie e dunque la Juve affronterà una delle otto formazioni che hanno vinto il proprio girone. Personalmente non è che abbia grosse preferenze, do di la verità che non ho neanche una grandissima conoscenza di molte squadre che compongono questo lotto. Ovviamente c'è da evitare, come non mai, l'attuale capolista della Premier League. L'Arsenal è una squadra che gioca un grande calcio, in fiducia, sembra davvero che possa essere il loro anno. Sebbene io faccia parte di quelli che pensano che la Premier sia tutto altro che chiusa. E occhio al Manchester United che tra l'altro ieri ha eliminato il Barcellona al play-off d'Europa League. Quindi sicuramente Arsenal e Manchester United sulla carta sono le squadre secondo me più forti in questa edizione dell'Europa League. E poi ci metto la Juventus. Le altre, te la giochi. Chiaro che gli ottavi rappresentavano la base del discorso, ma a meno che tu non sia così sfortunato da beccare l'Arsenal, al chiunque tu beccherai tra queste squadre, ebbè di vendere quarti. Devo dire che dopo ieri secondo me l'iniezione di fiducia per la Juventus deve essere delle più importanti. Anche per lo stesso Angel Di Maria. Tra l'altro ci sono delle statistiche su Di Maria che fanno capire davvero come si stia prendendo la Juventus sulle spalle in questo nuovo anno e come si stia cercando di trascinarla il più in alto possibile nelle varie competizioni. Basti pensare che Angel ha segnato sei gol in tutte le manifestazioni nel 2023. Almeno tre più di un gol di qualsiasi altro compagno della Juventus in questo anno solare. I dati Opta non mentono. Di Maria con ieri ha trovato la sua terza tripletta in carriera, la seconda se consideriamo poi la militanza in uno dei maggiori cinque tornei europei. Perché prima di quella di ieri l'altra risaliva, l'ultima tripletta di Maria, il campionato top, scusate, una competizione top, al febbraio 2018 contro il Sochaux in Coppa di Francia. E Angel di Maria è amore, d'altra parte non è un caso che poi lui festeggi il compleanno il 14 febbraio a San Valentino, ha da pochi giorni compiuto 35 anni. Oggi ho scritto un pezzo dedicato proprio a Angel di Maria che potete trovare nella homepage di gol.com perché mai come nel suo caso la componente anagrafica assomiglia tanto a un numero. Occhio, non nell'interpretazione del ruolo perché quando hai 35 anni non puoi pensare di giocare ancora in maniera rampante, insegna la linea verde come se tu fossi un ragazzino. Però questi grandi giocatori tendenzialmente hanno una grande intelligenza calcistica e riescono a capire anche come smussarsi nel tempo. Vi ricorderete anche Cristiano Ronaldo che inizialmente era un esterno attacco, poi si è un po' più accentrato, è diventato una punta tipica, non faceva più la fascia negli ultimi anni di grande carriera in Europa. Però Di Maria davvero quando sta bene è una fonte di gioco perché lui è sì come estrazione un esterno attacco, sebbene ve lo ricordavo qualche giorno fa, l'altro giorno ho rivisto per puro caso la decima, Champions vinta Real Madrid e Di Maria la giocava come mezzala di possesso all'interno di uno schieramento incredibile, ma Di Maria sa fare tante cose, è normale che ora si debba un po' centelinare a livello di chilometri percorsi perché non può perdere l'ucidità, ma ieri il primo gol è pazzesco, solamente pensarlo. Fagioli ti dà quella palla e ancora prima che arrivi quella palla tu hai già deciso dove provare a insaccarla e ci sei riuscito. Poi lo slalom in stile Alberto Tomba, crei il rosso all'avversario, ti prendi il rigore, lo batti tu senza problemi e anche colpo di testa con l'aiuto della Gone Light Technology, tra l'altro ieri, a proposito sulla tecnologia per quanto riguarda la partita della Fiorentina, un casotto con Cabral che poi risulta in una maniera, se vogliamo, polemica, però non sempre la tecnologia è la via maestra, ma fa comunque comodo e ieri lo specifico ha convalidato il terzo gol alla Juve. È normale in questo momento che poi uno si possa far trascinare dall'onda emotiva e questo sarebbe un errore perché una grande società deve essere fredda e distaccata dagli eventi, deve capire con lungimiranza quali potrebbero essere le mosse necessarie e su quale strada è dirigersi. Ovviamente faccio riferimento al fatto che Di Maria si è in scadenza di contratto, anche lui recentemente, se non sbaglio, intervistato all'ISPN ha detto non ho ancora affrontato l'argomento rinnovo con il club perché al momento la società ha altre priorità, anche questo è sinonimo di grande intelligenza e maturità, prima viene il noi, poi l'io e soprattutto prima viene il club, le sue dinamiche e poi quelle delle individualità, figuriamoci se poi parliamo di rinnovi. Non so onestamente come finirà questa partita perché da quanto ho costruito a livello di informazioni, oggi ho costruito a livello di informazioni con varie persone, siamo in una fase di stand-by per tutti quei calciatori che vanno in scadenza a giugno e che sono giocatori importanti, quindi qua un quadrado, quindi Alexandro a meno che non c'entri la famosa presenza che gli faccia scattare automaticamente un altro anno di contratto, quindi è lo stesso Adrian Rabiot, sono situazioni complicate perché la Juve ancora non sa cosa accadrà nel futuro immediato e non sa quindi a quali competizioni parteciperà in occasione della prossima stagione, però è normale che in questo momento se dovesse decidere di pancia il tifoso sarebbe felice, ben felice di andare avanti per un'altra stagione con Di Maria. Vediamo cosa succede, nel senso anche dall'Argentina varie fonti dicono che Di Maria non abbia ancora deciso se fare eventualmente un ultimo anno in Europa per poi tornare in Sud America, magari per vestire la matissima casacca del Rosario Central. Io credo che questo possa essere davvero un work in progress perché Di Maria e la Juve stanno consolidando un matrimonio in questo nuovo anno, nella prima parte di stagione secondo me ci sono state tante congetture che non aveva un motivo di esistere, questo retropensiero, Di Maria non si impegna con la Juventus perché si vuole tenere per il mondiale, tutte cavolate. Di Maria a suo malgrado ha vantato un feeling speciale con l'infermeria, ha avuto due ricadute, l'ho spiegato anche ieri lo stesso Di Maria ai microfoni di Sky dopo la tripletta, ma un professionista simile può mai tenersi, può mai non mettere la gamba, può mai fare il compitino. È un insulto pensare questa cosa in relazione proprio alla carriera proposta dal Fideo. Un giocatore amato da tutti i suoi allenatori, a tutti i suoi compagni, a tutti i suoi dirigenti, un campione di professionalità, di abnegazione perché altrimenti a 35 anni in questo stato di forma non ci arrivi. Io più volte mi sono battuto su questo tasto, non ho mai pensato neanche lontanamente, neanche per un secondo, che Di Maria si tenesse per poi giocare al 100% il mondiale. E la prova, la prova provata, emersa proprio dal mondiale con Di Maria che è stato gestito da Scaloni, poi è un fenomeno incredibile e dopo Kylian Mbappé è stato il miglior giocatore dell'atto finale con la Francia. Quindi è un insulto pensare che Di Maria non abbia dato tutto per la maglia. Purtroppo ha avuto degli infortuni che nella prima parte di stagione hanno condizionato pesantemente la stessa annata della Juve. Perché mettetemi un Di Maria pieno regime nella prima parte di stagione, sono sicuro che certe figuracce la Juve non le avrebbe fatte. Io ho solamente un episodio brutto ricordo di Di Maria quando l'ho visto in campo con la Juve, essersi fatto portare al bar da Izzo in quel di Monza, dove poi si becca il rosso e lì la Juve subisce una coccente sconfitta che è sfociata poi nel primo successo storico della formazione Brianzola nell'elite italiana. Quella è l'unica partita a cui posso appigliarmi in chiave negativa sul fronte Fideo. Per il resto, debutto con la Juve contro il Sassuolo, gran gol. Partita contro il Maccabi in casa, tre assist. La seconda giocata ha sempre fatto vedere di essere superiore. Napoli-Juve, disfatta Juventina, una delle più clamorose della storia recente bianconera, chi prova a salvare l'onore della Juve? Di Maria. Quindi, di cosa stiamo parlando? Ci vuole il giusto rispetto professionale nei confronti di questo ragazzo. Poi, per quanto riguarda il fatto che Juventus eventualmente dovrebbe andare oltre di pensiero perché Di Maria non ti garantisce progettualità, è un discorso condivisibile. Quindi, vediamo cosa succede. Mi sembra che si stia alimentando questo amore cammin facendo tra Juventus e Di Maria, però bisogna essere lucidi e razionali nel dover prendere una decisione. D'altra parte, Di Maria è un giocatore che prende 7 milioni di netti annui senza decreto crescita, perché lui ha chiesto espressamente che potesse firmare un contratto solamente i 12 mesi. Se subito l'avesse firmato i due anni, avrebbe consentito a la Juve di poter usufruire dei benefici di questo decreto. Così non è stato, però. Questo è. Di certo, io invito tutti a effettuare un unico esercizio. Godersi il momento con Di Maria. Godersi finalmente il vero Fideo. Godersi un giocatore che sta amando, sta imparando ad amare la Juve e che si sta facendo apprezzare molto dalla stessa piazza che nella prima parte di stagione. Sicuramente non gli ha fatto mancare il suo punto di vista molto negativo, però per il momento credo che bisogna pensare mattoncino dopo mattoncino. E sarebbe bello se poi Di Maria, se una sola stagione della Juventus resterà, sarebbe bello se dovesse regalare un trofeo, un paio di trofei. Ciao a tutti.